È bevuto tantissimo, che qua si è allargato a un metro e mezzo l'acqua, è arrivato, poi usciva dal cesso l'acqua, era già tutto pieno, 3 metri d'acqua, e poi quando si è fatto più brutto, che è arrivato l'onda del Ferragiano, abbiamo chiuso le tre cinesche e siamo scappati via. Danni, una teoria? Danni tantissimi. Tempi di ripristino a questo punto? No, domani apriamo. Domani apriamo. Non apriamo, no, poi tutta l'attrezzatura è buttata via, fornitura è buttata tutto via. Qua siamo tra l'altro in viaggio a Tommasin-Groia, quindi un'onda piuttosto violenta del Ferragiano. Eh sì, sì, no. Ah, poi era tutta una piscina. Grazie. Grazie. Grazie.